Ciao amici, oggi è un soggetto importante, non per ridere. Quando io ho uscito e porto questi, i bambini dicono corona, corona, corona. Anche le persone ai miei carceri non portano questi mai. Le persone quando vedo io portano questi, dicono dammi un braccio. Perché dammi un braccio, se ne portano questo e questo, se ne portano i braccio, se ne portano i braccio, se ne portano i braccio. Come vuole i marocchini, la nostra paese andrà davanti con queste persone. Non andrà davanti, non andrà lontano. E parli con i suoi bambini. Dici basta, non studio, stai a casa tua. Perché ucciri, giocare? E parli con i suoi bambini, se ne portano i suoi bambini. Perché? Perché i marocchini non fai la tua parte. La tua parte. Fai la tua parte per tutti i saluti. Noi per... Il signore il nostro paese, il signore il nostro paese. Perché? non è una cosa importantissima